L'Expo di Milano 2015 è una grande opportunità, una opportunità per tutta l'Italia ma anche per la Valle d'Aosta e noi da Valdostani, orgogliosi di esso, vogliamo cogliere questa occasione per raccontare la Valle d'Aosta nel mondo. Questo è il primo obiettivo che ci siamo dati, raccontare tutte le bellezze della Valle d'Aosta, quindi le nostre montagne, le nostre biodiversità, le nostre produzioni, perché dietro ogni prodotto, dietro ogni istante di questa regione ci sono dei volti di persone che si ingegnano, che si impegnano e c'è una storia. E dietro ogni storia c'è un territorio e una cultura che è quella valdostana. Questi sono degli elementi straordinari che noi vogliamo portare in giro per il mondo, vogliamo cogliere questa opportunità dell'Expo per raccontare, dando emozioni a tutti, quella che è la Valle d'Aosta, per portare qui più persone possibili, non solo durante l'Expo ma soprattutto dopo l'Expo e far capire che la Valle d'Aosta è un luogo straordinario. Per fare questo abbiamo creato la società dell'Expo VDA, questa è una società che rappresenta la regione e che deve, in tempi purtroppo molto stretti, portare avanti questi ragionamenti. Lo stiamo facendo con grande serietà, lo stiamo facendo senza dividerci tra maggioranza e opposizioni, ma sentendo forte il richiamo di essere valdostani e l'orgoglio di essere valdostani e quindi di avere questa missione da portare nel mondo. Per fare questo saremo presenti a Milano, lo faremo con un'installazione che richiamerà quelli che sono gli elementi centrali dell'energia per la vita, nutrire il pianeta, che è il tema dell'Expo e quindi il concetto della montagna legato all'acqua. L'acqua nasce in montagna, la fonte primaria della vita, l'uomo è fatto di acqua, ma l'acqua non è solo l'elemento che nutre l'uomo, ma è quella che nutre la natura, pensate solo ai prati che vengono irrigati dall'acqua, ma pensate alle nostre mucche, ai nostri allevamenti che si nutrono dell'erba dei prati e da lì lascia il latte, che poi diventa di nuovo un altro elemento straordinario della vita perché si ricollega al rapporto tra il bambino e la mamma. Questo sarà un po' il tema che noi seguiremo nella nostra installazione di Milano, che come ho detto prima, l'Expo non è una fiera, quindi è vietato, non si può andare a pensare di andare lì e vendere dei prodotti. Quello lo si potrà fare fuori dall'Expo, infatti noi cercheremo di organizzare anche qui in combinazione con la Sciamble, con tutti i produttori, con i piccoli produttori, quelli che magari a volte non hanno voce in capitolo e vorrebbero essere presenti anche loro per raccontare la loro storia, cercheremo di realizzare dei luoghi dove i valdostani potranno raccontarsi a tutto il resto del mondo. Faremo delle cose anche in Valle d'Aosta perché tutti i valdostani hanno diritto, anche quelli che magari non riusciranno dall'Expo, di toccare con un dito questi valori, i valori etici e morali, di nutrire il pianeta, cioè che la dignità del cibo è una dignità che deve essere per tutti uguale e quindi bisogna ragionare sugli stili di vita, la qualità della vita. Faremo delle cose ad Aosta, permetteremo anche qui ai turisti, ai visitatori di avere delle emozioni valdostane, quindi venderemo i nostri prodotti, faremo delle kermesse culturali, turistiche, artistiche, delle cose molto belle. Questi sono un po' i temi centrali, però dietro di questo è evidente che c'è molto, molto di più la comunicazione, il rapporto con il territorio e quindi lo sport, la nutrizione di montagna, il rapporto con l'università, i rapporti con la ricerca e lo sviluppo, c'è tantissime cose. Pensate alla Valle d'Aosta quante cose ha da dire e da raccontare. È arrivato il momento di farlo tutti insieme, tutti i valdostani insieme con grande orgoglio e grande dignità.